siamo in cima siamo arrivati grogno grogna come si chiama come si chiama qua la grugna che grugna va beh siamo in cima ce l'abbiamo fatta sì veramente la grugna che si chiama qua ehi hai pagato parcheggio? si ma tutto il giorno? che cazzo stai facendo? manda un messaggio perché sta prendendo il pelo qua dimmi poi com'è vorrei farla rifugio menaggio quanto è? un'ora monte grona due ore anche due ore attaccio non su di lì ma di qui eh sì la montagna? grigna eh massimo è bellissimo bravo hai fatto bene bravo massimo comunque noi ragazzi dobbiamo salire lassù da lì un homenaggio prendiamo caffè? buongiorno ciao lui e il caffè? ciao a tutti oggi sabato 25 marzo siamo a Breglia via Breglia a Plesio siamo a Plesio a Plesio in provincia di Como sono con Massi ciao ciao fausto ciao stiamo andando alla ferrata del centenario molto buona facciamo un saluto a Roby Sport che abbiamo preso ispirazione dai suoi video per andare a fare questa ferrata lo salutiamo ciao Roby bella raga bella 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 allora da rifugio si prende a destra e ci sono le indicazioni 20 minuti da rifugio dovremmo venire a mangiare qua al rifugio menaggio abbiamo chiesto alla ragazza se ci tiene un posto per dopo e adesso proviamo a fare questa ferrata la prima volta che veniamo in zona siamo vicino al lago di Como è veramente uno spettacolo e voglia guarda che pareti che ci sono bello e l'attacco dovrebbe essere laggiù eh qua è un po' esposto eh vabbè lo è esposto che ho l'esposizione la roccia è fatta wow questo è quello di Lugano dove attacca? ecco lì la croce di vetta grona sulla sinistra ferrata lì c'è l'attacco c'è già una bella parete dritta dritta eh 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 attaccati attaccati grande massi lì c'è appropiu così da qua proprio così com'è? eh guarda dov'è! basta! tu che... mi tieni in questo qua di plastica i moschettoni? mi stai tenendo in questo di plastica? non lo so, io non sto... mi tengo un po' di plastica e mi chiuso a vedere guarda che vedi puttana, va! cos'è? una gran zoppola una domanda, se posso scascopare nella vita, ora mi chiuso a fare puttana oh no, ma perché si devono incastrare così? no 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 no... sì meglio non so se sto riprendendo mollo devo stare qua così è una sportiva io quello di Rumitio l'ho dato io perché sono veramente solo per fare la grona è tosta è tosta Massi sensazioni fantastica è una figa Fausto è dura è dura è dura vai Massi occhio eh ma io farò bene no ma non ci credo hooo ooo 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 uscita qua dove è uscito roby camino camino miseria e l'ultimo pezzettino basta bravo capito 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 la punica sgancia io no no quel coltello hey oh di buon ora ciao una ferrata dura 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 no ci scenderei dalla direttissima basta ferrata bella 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 bravi ragazzi alla ferrata del centenario salute salute io ho mangiato dal caldo 8 e mezza io ho 8 e mezza 8 e mezza tu 9 9 9 per non dar 10 bene l'ho organizzata tu ma l'ho organizzata io no io ho messo la macchina e la voglia è sempre stato il tuo sogno questa ferrata puoi coltivarlo per alcuni giorni è che noi ci mettiamo troppo a decidere sempre indecisi no no assolutamente è un troppo difficile pronti via bene abbiamo finito questa ferrata del centenario monte grona dove siete dai venite qua dai dai ci abbiamo messo due ore e quaranta due giorni è stato bellissimo siamo espatriati in lombardia bellissimo un posto magnifico un posto fantastico venite tutti qua che è il lago impagabile ciao Roby ciao Roby grazie ciao 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 bella bella